La punta del piede che tocca la linea bianca. Sono stato chiaro? Ogni volta che dico sono stato chiaro, voglio che tutto il gruppo dica sì signore. Sono stato chiaro? Sì signore! Sono stato chiaro? Sì signore! Io non credo ai miei occhi. Dove avete passato la vita fino a oggi? A sentir musica dei Rolly Stones e a dir male del vostro paese, scommetto. Di dove sei ragazzo? Tucson, Arizona signore. Di dove? Tucson, Arizona signore. Due sole cose vengono dall'Arizona. I tori e le checche. Tu che cosa sei ragazzo? Non vedo le corpi, quindi devi essere una checca. No signore. Come? No signore! Mi ho conto di perdere un po' di voi altri prima della fine del corso. Userò qualunque mezzo che riterrò necessario, leale o sleale, per ostacolarmi. Non so nessun anno, non so nessun anno, non so nessun anno si no. Non so nessun anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Così si va, Paola. Così si va. Così si va, Paola. Così si va, Paola.